un qualcosa che possa mantenere forte il legame con il proprio io profondo e la cosa importante davvero per me è stata quella di riuscire ad adattarmi al cambiamento dalla verità che nella vita ci si deve sempre impegnare però impegnarsi nel momento in cui si fa qualcosa che piace è completamente diverso cosa ne pensi dell'influencer fede a me piace molto grazie